Continuerà domenica prossima con l'ottava giornata di campionato l'esaltante avventura in serie D del Marina di Ragusa. Marina che deve comunque mantenere bene a vista il proprio obiettivo salvezza e tentare di ritornare a galla dopo le pesanti sconfitte. In totale 5 su 7 incontri rimediati da inizio campionato. Attualmente i 4 punti guadagnati da una vittoria e un pareggio non ne regalano certo serenità ai ragazzi di Mister Utro che comunque hanno dimostrato grinta e determinazione da vendere. Come se non bastasse il prossimo incontro sarà dopo quello contro il Palermo 1 tra i più difficili del campionato. A casa della Cireale in questo momento al secondo posto in classifica. Una Cireale che però è uscito sconfitto domenica scorsa contro il Roccella che sempre in classifica fa compagnia con 5 punti al Marina di Ragusa. Un piccolo miracolo quindi è sempre possibile per gli iblei che hanno dimostrato a Palermo di saper alzare la posta al momento più opportuno. In eccellenza l'imbattuto Ragusa che con 5 giocate e 5 vittorie tiene da solo il vertice della classifica del girone B. Prossimo appuntamento domani in casa alle 15.30 contro la Cicatena che almeno sulla carta non dovrebbe essere tra gli avversari più temibili. Anche se lo sa bene il DS Emanuele Merola tutto è sempre da vedere poi sul campo. Essendo anche una squadra di Catania conosco gli elementi, conosco i dirigenti, conosco il tecnico. Sicuramente questa settimana prepareranno la partita nei migliori dei modi anche perché incontrano la prima in classifica, la squadra ribattuta, la squadra che ha subito solo un gol. Justamente per loro le motivazioni cresceranno e poi secondo me una squadra che deve salvarsi incomincia ad andare fuori casa e andare a fare punti. Per loro sarà difficile e io mi aspetto una battaglia sabato. In eccellenza anche il Santa Croce, sempre a un passo dietro le Big. Domenica alle 15.30 in casa al Kennedy, il Cigno affronterà lo Sporting Pedara, fermo in bassa classifica a tre punti. Dopo ben tre vittorie consecutive i camalinensi restano quindi in cerca di continuità. Un Santa Croce, che lo ha ricordato anche il capitano Salvo Ravallo, come obiettivo alla salvezza. Ma adesso archiviata l'eliminazione in Coppa Italia 2-2 contro il Rosolini e il grande risultato ad Enna punta a qualche cosa di più ambizioso. In promozione, partita fondamentale per il Modica che potrebbe fare il salto di classifica battendo il non facile Caltagirone domenica prossima. Tigrotti che con nove punti e solo due lunghezze di distacco dalle prime in classifica, Siracusa e Virtusispica, hanno ancora tanto da dire e dimostrare nella parte alta della classifica. Un Modica reduce da una bella vittoria fuori casa contro la Don Bosco 2000, partita terminata 2-1. E' un Eccaltagirone che al contrario ha incassato una dura sconfitta tra le Muramiche proprio contro il Siracusa. Sicuramente dal punto in cui siamo si sta presentando una partita che con la classifica che stiamo occupando e nelle fasi iniziali del campionato ci potrebbe permettere ancora una volta di migliorare questa situazione di classifica. Resta il fatto che il nostro obiettivo dall'inizio della stagione è sempre stato quello di riuscire a creare un'identità di squadra e di affrontare tutte le partite nella stessa maniera. Per cui è un'identità che man mano si sta assemblando, si sta rafforzando sempre di più e credo che sotto questo aspetto riusciremo a mantenere sempre queste aspettative. Vicino al Siracusa, prima in classifica, come ha accennato la Virtusispica, chiamata domenica al Borgese di Comiso, per un match tutto da giocare, dato che proprio i verde-arancio sono alla ricerca disperata di far punti anche in campionato dopo aver brillantemente superato un nuovo turno di Coppa Italia. A metà classifica, invece, l'atletico Scicli, che ospiterà il Climiti San Paolo, al terzo posto attualmente il Pozzallo, che chiamerà se lo Sporting Obea, mentre il Frigientini dovrà vedersela fuori casa contro la prima in classifica, il Siracusa.